bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono e oggi non so se è apparsa la cosa o non ho la voce non ho più la voce ragazzi faccio le live di what the hen da due ore da un paio di giorni a questa parte purtroppo la voce se ne sta ritornando a casa comunque ragazzi miei siamo su what the hen e parliamo di una cosa veramente veramente molto interessante perché anche per chi ancora non ha ottenuto le due skin che si possono ricevere solamente nel gioco in versione americana di galadon e di shippat e non solo ragazzi miei non solo avremo la possibilità di avere la skin appunto di galadon e di shippat ma ci verranno regalate anche delle monete e delle gemme intanto vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se vi è piaciuto se vi è piaciuto non è ancora fatto è l'abitudine di fare le live se vi sta piacendo questo video ragazzi lasciate un bel like fatemi capire un pochettino quanto vi piacciono i video dedicati a what the hen oltre che alle live ma non siamo qui a qui squigliare siamo qua ragazzi a fare le cose a fare le cose fatte bene quindi tutto alla luce del sole ragazzi andiamo a provarlo insieme a voi questo è il telefono ovviamente si gira lo screen dobbiamo andare sul play store quindi cliccate nel vostro smartphone su play store il play store si apre andiamo a scaricare l'applicazione o la vpn gratuito eccolo qua ragazzi o la vpn gratuito non l'ho mai fatto quindi lo sto facendo insieme a voi per la prima volta ovviamente cliccate su installa e cliccate su accetta le condizioni che non si sa bene che condizioni siano ma noi le accettiamo sempre applicazione molto molto leggera ragazzi 12,63 mega quindi una cosa assolutamente gestibile anche dai telefoni un pochettino più datati attendiamo ancora qualche istante che l'installazione abbia il completamento infatti così è apriamo l'applicazione cliccando appunto sul tasto apri vediamo scelta rapida già creata ci dice ma questo è normale ho capito enjoy your free lifetime service continuo eccolo qua ragazzi ho la vpn dovrebbe mostrarci infatti voi non la vedete aspettate che ve la faccio vedere subito se scorriamo questo spostando tutto se scorriamo non scorrate ragazzi se scorriamo le applicazioni che ci vengono proposte sono tutte quelle che avremo sul telefono e abbiamo anche what the hand vth.sclamativo ci dà già automaticamente l'accesso dagli stati uniti che è quello che dobbiamo fare andiamo a cliccare su apri vediamo cosa succede se procedi concedi l'applicazione delle autorizzazioni per intercettare tutto il traffico di rete non accettare se non concedi l'applicazione attendibile vabbè tanto cosa vuoi che mi cosa non niente da nascondere io apertura in corso vediamo si rigira tutto ragazzi stiamo riaprendo il gioco e oh la la non succede assolutamente niente fatemi vedere perché questo big fail fatemi vedere perché questo big fail se io vado sul mio profilo non mi dice niente non mi dice assolutamente niente sarebbe dovuta apparire e invece niente da fare se io metto la lingua americano vediamo oh la la idioma aspetta aspetta potrebbe capitare anche a voi ragazzi potrebbe capitare anche a voi quindi già vedo molte più lingue rispetto a quelle che avevamo prima io vorrei l'inglese americano vorrei l'inglese americano fammi vedere fammi vedere aspetta vuoi dire che devo accedere ok questo è l'inglese americano possiamo tornare indietro vuoi dire che devi accedere a facebook per farla ai 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 signora longari qua mi è caduta sul pisello diceva il nostro mike buongiorno vi tolgo un attimino ragazzi datemi solo un secondo che vi tolgo un attimissimo il nostro screen quello che avete visto qua siamo nello screen di gioco che ho usato come sfondo devo un attimo mettere i miei dati di facebook sto facendo tutto alla luce del sole davanti a voi ragazzi mettiamo i nostri dati di facebook vediamo è allora tac tac questa è una mail che non è la mia principale perché il mio account è stato purtroppo bloccato quindi abbiamo proviamo a fare il collegamento direttamente da facebook probabilmente poteva essere il problema allora facciamo così e così accedi adesso sto accedendo con la mail nuova non appena venga venga tolta non appena venga tolta conferma la tua identità addirittura quindi è una vita che non uso questa mail chiedi aiuto ai tuoi amici ma porca miseria porca la ladra ma perché ma perché no niente da fare ancora niente da fare ancora non capisco non capisco perché stia facendo questa cosa qua non capisco perché stia facendo questa cosa qua porca maialina porca porca maialina porca e se clicchiamo sulla pergamena quella 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 dovevamo cliccare sulla pergamena scusate che pistola che sono dobbiamo cliccare sulla pergamena e quindi ragazzi vediamo galadon e shifpat shifpat vs galadon the choice is yours possiamo sceglierne uno dei due ragazzi io voglio galadon voglio galadon vediamo cosa ci dà quella abbiamo cambiato abbiamo cambiato il nostro personaggio come vedete siamo diventati galadon adesso ma non sto vedendo le gemmine la cosa mi fa abbastanza alterare quindi questo problema potrebbe capitare anche a voi ragazzi purtroppo non vedo le gemmine io voglio cambiare assolutamente il personaggio abbiamo ciccio gamer abbiamo il mio normale ma abbiamo anche galadon e non so addirittura se noi clicchiamo sulla pergamena non succede niente quindi o uno o l'altro ne possiamo scegliere va bene ragazzi purtroppo non ci ha dato le gemme avevo letto avevo letto che ci potrebbero essere dei problemi io spero che a voi invece le dia qualora vi collegaste con facebook e quindi per avere la skin di galadon quello che dovete fare ve l'ho detto nel video scusate per i grandi fail scusate per i grandi fail ragazzi ma eccolo proprio qua io spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi spero che l'abbiate trovato interessante spero vi siete fatti anche un paio di risate con lo xyuder che cerca di fare sempre le cose alla luce del sole noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao